. Uomini e donne, Nicolò Ragnolo e Laura Molina insieme? Parla la ragazza. Uomini e donne, Laura Molina e Nicolò Ragnolo insieme dopo Uomini e donne, lex corteggiatrice racconta la verità. . Nicolò Ragnolo e Laura Molina si sono mostrati insieme dopo lultima registrazione di Uomini e donne. Sabrina Ghio ha deciso di uscire dal programma insieme al Ragnolo. Quest'ultimo, però, ha riservato all'ex ballerina di Amici una dura sorpresa. . Infatti, Nicolò ha risposto con un bel no, dopo essere stato scelto da Sabrina. Qualche ora dopo, il Ragnolo è apparso normalmente su social. . Lex corteggiatore si è mostrato in compagnia dei suoi amici, con cui scherzava e si divertiva. . Ed ecco che, sulle storie di Instagram di Nicolò e Laura, sono apparsi dei video che li ritrauggono insieme in auto. . I fan hanno subito iniziato a fare delle ipotesi troppo azzardate. Infatti, sappiamo che i due sono amici da moltissimi anni. . Non cè alcuna storia d'amore tra Nicolò e Laura. A confermarlo ci pensa la stessa Molina, ex corteggiatrice scelta di Gianmarco Valenza. . Dopo molto tempo, Laura è tornata in scena con questo nuovo gossip. Ma la Molina ammette che questa situazione non le piace e, soprattutto, confessa di non voler far parte del mondo del gossip. . Infatti, Laura è apparsa piuttosto infastidita su social. . . Ragazzi io non capisco una cosa, perché parlare del nulla quando non cè niente di cui parlare? E così che Laura inizia le storie d'Instagram. La Molina ha scelto di confermare pubblicamente che tra lei e il ragnolo cè solo una forte amicizia. . Lo sanno anche i muri che io e Nicolò siamo amici da tantissimi anni, però la gente deve sempre dare aria alla bocca con scemate. L'ex corteggiatrice appare piuttosto nervosa su questo argomento. Una cosa volevo dirla, però vi giuro che non parlo più, ho 30 anni e ho di meglio da fare che stare dietro a questi gossip. . . Ed ecco che Laura spiega il motivo per cui è così infastidita. Cè gente che vive di questi gossip per apparire. . . Io sono sempre stata nel mio, nessuno ha mai sentito parlare di me perché non voglio far parlare di me. . Laura è Nicolò oraniolo di uomini e donne, nasce il gossip su di loro e la Molina si ribella. . Avrei anche io vivere per farmi conoscere su gossip, ma me ne sono sempre tirata fuori. . . . . . . .